La tradizione della palla a mano porta a un grande risultato per Chieri? Sì, è un qualcosa di importante. Il Centro Tecnico Federale Palla Santa Filomena, che come molti sapranno è diventata la casa della palla a mano, abbiamo fortemente voluto concludere dapprima l'affidamento alla Federazione Italiana Palla a Mano della struttura del Palla Santa Filomena. Oggi presentiamo insieme al Presidente Federale Loria questa iniziativa che si chiama Campus Italia, che non soltanto prevederà tutta una serie di iniziative sull'impianto per quello che riguarda la disciplina della palla a mano, poi c'è anche la partita Italia-Bielorussia con la diretta su Sky Sport 1 ed è anche il preludio a quelli che poi saranno gli europei di palla a mano femminile che si terranno proprio presso il Palazzetto dello Sport di Santa Filomena. Chiaramente come amministrazione siamo orgogliosi e questo conferma la bontà di questa sinergia che stiamo portando avanti con la Federazione Nazionale di Palla a Mano. Sulle impianti sportivi stiamo veramente mettendo in campo dei virtuosismi che ci consentiranno di efficientare l'impiantistica sportiva sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista delle gestioni, quando queste sono indirette. Per quello che riguarda le gestioni dirette stiamo portando avanti e adempiendo a tutte quelle, inadeguatezze cui purtroppo erano afflitti i nostri impianti sportivi per risolvere nel più breve tempo possibile e ci stiamo riuscendo. Penso per esempio al Palatricalle che oggi risponde perfettamente alle normative vigenti. Penso al lavoro che stiamo facendo sull'Angelini sia quello che abbiamo fatto sul Mantervoso per consentire la ripresa del campionato di calcio e quindi dell'eccellenza con il Chieti, sia per quello che riguarderà anche poi l'agibilità della tribuna e la messa a norma della struttura.